Cari amici, mi avete beccato, siamo ritornati nei laboratori di Mennella, attore del Greco, dove in compagnia di Roberto abbiamo un po' scoperto quelle che erano le qualità, diciamo le peculiarità di un panettone artigianale. Roberto, le materie prime eccezionali, però dietro un grande panettone c'è pure una grande lavorazione, un impegno. Io vedo qua questo trionfo di panettoni, ma quanto tempo deve cuocere un panettone, come deve cuocere, a che temperatura? Diciamo che sicuramente per fare un panettone c'è bisogno di tanto tempo e tanta dedizione. Un panettone impiega circa 60 ore per essere completato. Viene impastato due volte, viene fatto livitare due volte, poi viene cotto per circa un'ora in forno e all'uscita dal forno viene immediatamente capovolto con questi speciali assi che... Ecco, questa è una curiosità che ti volevo chiedere. Per quale motivo questi panettoni stanno tutti a capa sotto? I panettoni stanno a capa sotto perché praticamente all'uscita dal forno tutte le materie che fanno parte dell'impasto, quindi il bugio, anche l'uovo, sono ancora molto tenere, essendo caldo. Quindi il panettone se ne scenderebbe subito. Allora vengono messi questi assi e girati. Quindi praticamente così conserva quella meravigliosa forma tondeggiante che poi ci affascina. E riavviciniamoci un'altra volta a questo che è un po' il tavolo delle meraviglie, perché io lo chiamo così il tavolo delle meraviglie. E qua, vabbè, io vedo un pandoro, vabbè, che anche siete scesi in campo col pandoro, però quello che mi affascina di più è questo panettone. Spiegami un attimino, vedo questo colore, questo colore naturale, queste scorzette, queste cose, questi alveoli. Il colore naturale, questo giallo così intenso, è dato dalla presenza di una grande quantità di tuorlo d'uovo. Invece questi alveoli di forma così allungata sono dati dalla quantità di lievito naturale presente nel panettone. E naturalmente anche dai tempi di lievitazione che sono fondamentali. I tempi di lievitazione, come dicevamo, sono di circa 60 ore, insomma. E quest'anno avete anche cambiato la confezione, avete una confezione molto chic, molto elegante, che secondo me è pure un marchio di fabbrica, è un valore aggiunto al panettone. Diciamo che sostanzialmente quest'anno presentiamo una confezione che fa sia da imballo che da busta, regalo, insomma. Quindi è un cartoncino ma alla rigidità della busta, insomma. Io vorrei assaggiare una fettina di panettone. Se qualche tuo collaboratore mi dà un coltellino per provarla perché so' curioso e poi so' goloso. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Just like the ones I used to know